Buongiorno, io sono Marina Salamo, siamo a Librar Verona, nelle piazze di Verona e io vorrei dire a tutti leggete, leggete qualunque cosa perché fa bene. A me ha fatto tanto bene, mi ha aiutato a superare i momenti scomodi, mi ha insegnato tanto e continuerò a farlo, per cui non è male, qualunque cosa vogliate, ma leggete.